buongiorno a tutti io continuo il mio lavoro come io ho detto prima adesso io devo fare riempiamento laterale io dico fianchi come voi vedete io e già ho fatto c'è anche video quale ho fatto passo a passo adesso io solo voi spiego come teoria allora adesso io ho fatto questo riempimento 15 centimetri come come io ho spiegato dal parte regla quale davanti e quale regla indietro questa e io lavoro dal regla quale indietro e quale regla davanti e con questa maniera io faccio con giri corte però con giri quale io faccio parte di diritto io faccio due maglie insieme prima questa regla di nostro fianco e dopo adesso andiamo a tavola io ho preparato per voi cartaceo per spiegare meglio però questa non complicata semplicissima come mia bambina 15 anni fa queste queste riempiamento laterale senza fatica addirittura anche di diverte ma mi sembra noi adulti senz'altro riusciamo questa fare più semplice non può essere adesso andiamo a tavola e io spiego voi a cortaceo allora riempiamento laterale oppure il nostro nostro fianco io non pittore io dipinto come io potevo dipingere però qui è senz'altro è chiaro allora questa nostra regla centrale davanti questa nostra regla regla centrale indietro alla schiena quando noi abbiamo lavorato avvenuto angolo quale indietro e anche indietro davanti e adesso questa noi dobbiamo voi riempire e come noi dobbiamo riempire senz'altro con giri corti adesso io provo a far vedere ancora più più vicino guardate quando noi cominciamo lavorare io arrivo parte dove regla per esempio questa davanti io sto arrivando dove questa questa regla io faccio prima maglia io faccio diritta come è seconda maglia io giro dopo come io ho fatto vuoi vedere non fare buco io faccio dalla questa maglia io giro e diventa come due fianchi ho fatto questa parte di diritto questa parte di diritto io devo tornare e vado parte di rovescio qui anche io arrivo dove regla però prima maglia io non tocco non tocco seconda io faccio maglia maglia come diritto giro lei e torno indietro questa parte di diritto quando io arrivo nella parte di questo fianco io faccio due maglie insieme questa maglia centrale al nostro fianco e dopo anche faccio due insieme cantino faccio tutto diritto diritto e arrivo punto qui maglia quale girata lasciamo perdere prossima maglia io vedo diritto io lascio non faccio come diritto io prendo prossima maglia e torno indietro dalla parte di questo fianco di rovescio quando torno di rovescio questi due quali io ho fatto io lavoro con altre due questa io lascio come diritto però dalla parte rovescio come rovescio a questa maglia io ancora giro e parto indietro guardate ogni volta quando io faccio giro guardate questa maglia prima io lasciata come è a questa io girata questa io girata e subito ho messo adesso devo guardare meglio come voi vedete questa maglia io girata è venuta come due fianchi è vero prossima maglia va diritto quando io faccio ancora giro e ogni volta quando io lavoro con due maglie io metto quando io lavoro faccio giro queste mie due maglie io sempre metto marker senz'altro io non sbaglio io arrivo dove mio marker io faccio maglia diritto e dopo la seconda maglia io giro e torno indietro e come voi vedete ogni mio giro viene due maglie questa quale io stringeva questa dalla parte di rovescio due a questa va come diritto perciò noi lavoriamo adesso provo a vedere così noi lavoriamo con questa maniera io vado parte di diritto arrivo dove questa centrale io prima faccio due insieme questa quale centrale nostro fianco faccio come normalmente diritto e faccio prossimo due insieme e vado e cerco dove mi era marchio io vedo il mio marker qui vuol dire già una maglia io non tocco seconda io giro come io ho spiegato a voi questa come una maglia con due fianchi perciò qui io uso solo una vuol dire una maglia io non lavoro secondo io giro indietro e dopo io torno ancora dalla parte di rovescio qui io già non lavoro non faccio due insieme e vado dove vado 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 e cerco dove mi è marchio io ho trovato il mio marker dopo io ho trovato il mio marker dopo io ho trovato una maglia io non tocco senza lavorazione altra io faccio due insieme come voi vedete due insieme e torno indietro guardate e sempre metto marchio senz'altro io con questa maniera non sbaglio e senz'altro io con questa maniera lavoro avanti e indietro e arrivo punto quando mi rimane solo mia una maglia centrale può succedere anche può rimanere tre maglia compresa questa centrale però questa non è un errore come voi vedete così riempito ancora spiego questa nostra regla centrale e qui regla centrale mezzo una maglia questa nostra terrale e quando noi abbiamo lavorato noi abbiamo fatto due maglie qua insieme due maglie qua adesso io comincio a partire dal regla quale davanti oppure indietro questa non c'è differenza io lavoro io prima maglia io senza lavorazione seconda maglia io faccio dalla questa maglia io giro e turno indietro quando arrivo indietro questa maglia senza lavorazione questa maglia quale io uso come girare indietro e ogni mi giro io metto il mio giro io metto marker torno indietro arrivo prima maglia marker prima marker questa io non lavoro con questa maglia io giro e metto marker torno indietro però quando parte di diritto io sempre metto faccio due maglie insieme allora vado con parte di diritto qui io faccio due maglie insieme questa regla questa regla nostro fianco normalmente faccio diritto ho fatto diritto ho fatto due maglie insieme e continuo altra parte prima maglia io non tocco con seconda io faccio tornare indietro torno indietro dalla parte di rovescio faccio normalmente come guardano le mie maglie due maglie insieme io faccio solo quando io giro parte di diritto quando parte di rovescio io non faccio niente è tutto tutto secreto come voi vedete con questi giri quando io faccio questi giri e sempre questa parte sempre aumenta 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 e dopo 15 centimetri e dopo tutto va uguale come nostra parte indietro e davanti diventa tutto tutto dritto come voi vedete con questo riempimento quale io comincio io faccio fare con questa maniera ogni volta due maglie io lascio torno indietro e con questa maniera io riempio qui qui tutti i mali come voi vedete qui tutti i mali quali devono essere mi raccomando quando voi fate qui centrale voi fate sulla parte di diritto voi fate due insieme mali qua mali diritto due mali insieme andate trovate dove vostro marker e voi sapete prima maglia senza lavorazione con seconda voi girate indietro è uguale anche altra parte quando voi arrivate una maglia voi non toccate seconda voi dovete tornare indietro perciò un giro parte di diritto secondo giro per tornare parte di rovescio e con questa maniera avanti e indietro e mi raccomando non scordate qui nel fianco parte di diritto fare due mali insieme e dopo viene da voi come voi vedete tutto dritto e tutto a posto per questo punto io ho misurata io devo allungare lunghezza ancora tre centimetri e dopo io comincio a fare elastico per adesso è tutto non lo so ragazzi io spero gli ho spiegato bene altrimenti c'è altro video prima io ho fatto video passo a passo questo riempimento però ragazze più semplice fare questo riempimento non può essere io ripeto la mia bambina 15 anni fa questi riempimenti quando io non ce l'ho tempo io do e lei mi questa cosa fa è tutto io auguro a tutti buon salute questa è importante e buon lavoro ciao 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 ciao